Peggy 16 Se tutto quello che hai visto è vero, la fine del mondo è fin troppo vicina. In futuro verremo attaccati da una razza chiamata Kree. Quando avverrà questa invasione dei Kree, Clint? Ah, no. Clint! Non morire. Pensavamo di essere eroi, ma siamo morti da stolti. Dov'è Nick Fury? Alcune cose non cambiano mai. Chi è quel barbone letale? Katie. Clint. Sono il più forte. Non ti sei mai avventurato oltre la tempesta. Sei un codardo. Già, non è certo una di quelle apocalissi divertenti. Oh mio Dio. Vieni qui, bello. Clint! Ciao.